Ehi, 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 la violenza no, eh, violenza no, eh, vengo dietro, eh, eh, male, prova, ma non mi sei male, eh, male, piano, 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 stavo cando, no, pronti, prego, bella a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video, io sono Alba e oggi ragazzi vi porto i fratelli della Streamhouse, ma sapete che cosa faccio? Non ve lo dico dove li porto, perché li sto facendo preparando tutti quanti, non te lo dico, vieni, non te lo dico, allora adesso vi porto intanto in un centro commerciale, ok? Ok? Quindi vi porto nel centro commerciale dove siamo andati ieri, fraccello ossa, hai capito? Con questo è un bloccio, ma cosa vorrei farvi? Adesso vi porto in un centro commerciale, poi dopo ci sarà la sorpresa per tutti quanti voi, quindi non ve lo spoilero, non ve lo spoilero neanche a voi, quindi venite e seguiteci che vedete qui. Aspetta, ma andiamo a pranzo? Dovevo andare anche a pranzo, certo, quindi vi porto a mangiare, ok? Quello, quello non è uno spoiler. Tu dove sei sempre mangiare? E ma ho fame, posso, sono umano. E' andato. No, questo non è uno spoiler. Venite con noi ragazzi. Ma vuoi raccontarci del parkour che fai quando salgo di pranzo? Ah, quello è importante. Allora, io salgo. Hai capito ragazzi, lei lo chiama parkour, eh? È parkour. Io salgo. Perché rotolare adesso si chiama parkour. Non sto ridendo. Non parlo, non parlo, non parlo, non parlo, non parlo. Allora, non parlo. Allora, non parlo, non parlo. Ok, stavo dicendo che praticamente io faccio parkour, io salgo sullo scalino, ma nel mio video, vedi che nel mio video, ok, si vede come faccio parkour, essendo che non mi segui neanche, che cosa vuoi? No, come non ti segui? Io ti seguo come? Io ho fatto parkour, salgo sullo scalino. Cioè, ti sto facendo da babysitter, ma che non ti seguo. Cioè, è il minimo seguirti. Dunno, babysitter. Chizzo fa da babysitter. Tu non fai niente proprio. Sì, chizzo fa da babysitter. Vabbè. Cosa vuol dire proprio lui? Ehi, 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 la violenza no, eh, violenza no, eh. Vengo dietro. Guida! Non so che io, 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 Vai, scivoli, ti spacchi la spalla. Tu oggi ti farai tanto male senza che io faccia niente. Ancora non ti ho detto dove andiamo. Quindi non ti ho detto. Adesso prima andiamo a rifocillarci, mangiare, mangiare. Tu ragazzi pensi di essere super intelligente. Fra, tu non hai capito che... Capisce che mentre fai le ricerche uno li passa dietro con un po' le pete. Però va bene, io non so dove stiamo andando, non lo so. No, perché dove stiamo andando? Sentiamo. Dai, voglio sentire se lo so. Non lo dico perché rovinerai il suo presagliato. No, 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 dillo, dillo. Lo dico? No. Lo sai veramente? Sì. Come fai a saperlo? Perché ti ho controllato mentre stavi a cipollare il computer. Ma perché sei un cane? Ma ti vuoi fare i fatti tuoi? Ma io non ho capito, ma io ve lo sai. E secondo te perché mi sono messo il berretto? Io no, non lo so. E mi faccio sempre le cavole mia. Hai capito perché mi sono messo il berretto? Perché so che fa un raffreddo. Dove ci stai portando? Voglio saperlo. Senti qua. Che schifo usa. Che schifo usa. Oh mio, regà, parano come se non l'avessero mai fatto. Ma io non scorreggio così forte. E voi lo comprate già fatti su ebay. Ma fai le bolle da c***o. Che buccia? Regà, c'è il buco. Oh mio, mi è arrivata tutta davanti, mi è arrivata. Ci faccio non venire gente. Vabbè, allora, mo' che siamo arrivati qua al centro commerciale, penso che abbiate già capito dove sto portando, vero? Vabbè, tu hai detto che lo sapevi già? No. Si scerino l'ho. Allora, che cosa c'è in quel piazzale che c'è là davanti? Le soccolini. Le soccolini. No, fracceli, no, i soccolini. No, i soccolini. Ma cosa c'è? Dai, ma non ve lo ricordate? Che ve l'ha anche detto. Oh, una volta siamo venuti e ve l'ha detto. Innanzitutto, però quanto è bello, quanto sono belle le luci di Natale. Ho capito. Le soccolini. Lo sai che è per quello che mi sono messo. Guardate che belle le luci di Natale, ragazzi. Guardate quanto sono belle. Oh, è Natale però bello. A proposito, ma tu dopo cosa vuoi fare? Vuoi prendere... Andiamo insieme? Si, col cavolo. Con quale macchina ci vado? Siamo venuti con la tesi? No, mi accompagni a casa, ma è con la tesi. No, ma vado a Granarolo, vado a prendere... Lo compro qua. Compro qua, albero. No, neanche per sogno, si. Gigantissimo. C'è uno che è veramente bello. Andiamo a vedere se c'è il manga? Si, è quello che faccio ogni volta che passi da una libreria. Ci vado sempre. Lo finiamo anche. Sempre vedere se ci manca. Guardate. Guarda, se se lo ricorderà qui. Certo che c'è. Guarda tutti che si girano, è schifoso. Era qui, era qui. Dov'è il mio manga? Eccolo là, guardalo. Dov'è? Ma no, ti giuro, guardalo uguale. Ma qua, c'è la scritta uguale gialla. Papo Russo non è figlio di una ruggia, sì. Vedi? Fra, secondo me è andato sold out. Aspetta, aspetta. C'era, l'altra volta ci vorrà. Ti ricordo, in passato, te l'ho trovato. Il mio anime preferito. Fra, guarda. Perché ti ricordo di una ruggia? Tac. È lui? Sì. Inizial di fra. Una figata. Tu sei malato con le macchine comunque? Sì, c'è qualche problema. A me piace lei, sai. Questo è il mio anime preferito. Devi guardare il lato positivo fra. Se è finito vuol dire che è andato a ruba. Sì. Cioè, non hai visto quelli... Però, ne devono ordinare altri. Ah, sì. Che c'è? Dimmi. No, niente, niente. E allora? Siamo arrivati dove io volevo portare, ragazzi. Guarda che spettacolo. Vediamo le facce, vediamo le facce. È vuota. È vuota. È vuota? Che vuota, guarda. Ussa? Guarda, sono due lame adesso li facciamo fuori. Io cosa avevo detto? Che oggi voi vi facevate male senza che io vi toccassi neanche. Intanto io so patinare e ti dirò di più. Mi sono messo due paie di calzini. Io sai patina... Ah, no, lo so bene veramente. Mi sono messo due paie di calzini, guarda. Sì, mi sono messo uno. Tu ti sei messo due paie perché fanno male. Guardali, guardali, guardali. Guardalo, ho uno. Guarda, uno, due. No, dai, sei scorretto però. Io ho due pantaloni. Anch'io, fra me. Cosa è che c'era? C'è uno. Quanto c'era? C'è solo uno. C'è? C'era? C'è solo uno. Allora, guarda lei che avevo detto che non c'è. Perché è una falsa. Guarda dove ti ha portato a morita. No, ce l'ho ancora di totale. Allora, qua, amore, sarà molto più facile. Ma cosa c'è la pista? Allora, ti dobbiamo chiedere una cosa. Ma per cortesia, evita di cadere perché non vogliono trovare il petrolio. E' brava da andarci perché usavi i pattini? Sì. Anch'io usavo i pattini. Andiamo? Andiamo, dai. E tu? Questo cos'è? 42. 41. Oh, si belli cambia. Eh, grazie, li avevo già scaldati. Frate, questa qua è nella gola, sei pronto? Ma io la voglio blu. Eh, non puoi blu, arancione caccola. L'arancione è il colore degli uffa. Ci stavo pensando. Non ci sono. Cioè, blu con le cauda arancioni. Ma non è che parti in 40, magari? No, 42. Aspetta, questo è alpignac e questo è tecnico. Eh, lo so, mi hanno dato l'arancione, però... Fra gelosa, sei pronto? Sì, sì. Oh, fai provarsene stinchi. Oh, ho sentito il dolore. Mi sono un po' toccato. Oh, no, no. Ho sentito il dolore. Dove si metti? Vai, vai, vai. Oh, sei già partito, non ci credo. Guarda, guarda, guarda come c'è dal primo. Oh, bravo, però. Oh, ma perché sei capace ad andare tu? Perché in Marocco l'ho già usato. In Marocco? Ma perché? Ho rimasto io ancora. C'era un centro commerciale quest'estate che li faceva. Eh, ti ricordi come si fa? Guarda, guarda, io mi ammazzo. Io muoio. Ma non deve restare così. Allora, abbassati il pari centro. Abbassati, abbassati davanti. Piegati. Vai, adesso... Io non mi ricordo come si frena. Vai, io. Ma perché mi slittano così? Sì, ma c'è troppo ghiaccio. Non fare centro basso. Ok? Adesso fai. Oh! In questo modo, destra e sinistra fai. Vai, a papera, a modo di papera. No, le devi alzare le ginocchia, così. Ok. A modo di papera. Allora, smontare il pari. No, 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 no. Vai, vai, vai. Guarda, che duro, Ale. Come stiamo a lo fare? Sai che io ho una foto su Facebook che è bellissima. Ma che... Allora, vada a andare a me indietro. Eh, bene. Io quello non so fare. Eh, si metti con una. Te l'ho detto che dovremmo patinare io. Io te l'avevo detto che... Oh! Oh! Stai ripresa. Aspetta che faccio pesante. Stai facendo la mescola. Vai, Shesha. Non stai ripresa? Cazzo! Guarda come cavolo mi ha. Mi piace, mi piace. Vai, vai. Merdo, mi sto per girare. Che bravo. Merdo, mi stai. Lo ho preso in più, bro. Lo ho preso in più, bro. Lo ho preso in più, bro. Guarda. Oddio. No, è difficilissimo. Questo non mi ha detto parole. Non mi riescono, io no. Ma scusa, ma... Allora, se stai così... Se stai così, è normale che scivoli. Esatto, non mi sta così. Non mi sta così. Se stai così, scivoli. Vali... Ma posa in cui la macchina. L'ombelico. L'ombelico e il baricentro del corpo. Ok. Ok. Ma le prendi la roba? Eh? La foca. Prendila! Ma prendila! No. No, non sono più forte. Vatti a prendere la foca. Ah, perché è tosta? In più. Oh, però te ci sei rimasto male che io minimo ci scopo andare. Sì, bravo. Non me l'aspettavo. Ti giuro. Ti giuro, zero proprio. Non me l'aspettavo proprio. Si gira così qua. Si gira così, cretino. Sei il nostro mare, è schifoso. Sì, bravo, ti giuro. Di brutto. Non me l'aspettavo che ti faccio, bravo. Ti ho detto, Michia Ussa farà dei morì. Segui alla fine se avete tutti andacci. Eh, ma io non si metto. Oh, c'è il messo. Aiutami, fraccello. Non faccio male, sai. Aspetta, aspetta. Non mi fare niente. No, prendi, prego. Oh, come è fratto, sti ghiaccio. Sto a parte? Mettila. No, no. Pia, 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 pia. Parla l'altra piata della foca. Ma come funziona questa foca? Aspetta, ci sei. Mi riprendi? Mi riprendi, mi riprendi che lo spacco con la foca. Ce la fai? Vai. Si, ma l'ho presa per me, ha po' la risteclide. hai uomo oh ma uccia mamma mia sei scordinata che cazzo tu non ti fai vedere come fai quei chi che cazzo perché sei così trattivo vai male dai non fare scene sono ma il tuo corpo è scendito oh vado ma sei impazzito vado a bus io però che fatica e spingi meraviglia bellissima questa poca ragazzi è maravigliosa aiuto qualcuno mi prende papo ma sei l'incoglionito piano 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 papo cado papo cado voglio scendere non mi vedo più caso d'oltre le gambe le gambe le gambe non sa le gambe Aia che male Non sa che male le gambe Sei un dino di merda Aia le gambe Oddio le gambe che male Mi sta incidendo Allora attenzione perché i ragazzi vogliono provare una cosa un po' pericolosa Celli madonna ma sei sempre per terra E' sempre a terra Allora Usa vuole provare a fare una cosa molto pericolosa Quindi adesso lo assecondiamo E' psicofattico Però lo assecondiamo Vediamo Allora già ti stai sentendo sulla foca e non è normale Allora almeno metà curva Brava Pronti Via E' un drift Si fai così Però proprio mi devi lanciare Ah ok Sì 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 Aspetta Alver vai di là Vai là vai là Vedete che noi arriviamo Arrivano 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 allora ragazzi allora dopo questa retta direi che possiamo anche andarcene lo sapevo che male ma mi fai sempre male allora ragazzi dopo questa ora qua dentro possiamo chiudere il video ragazzi mi si sta congelando il culo ci vediamo al prossimo video fratelli che mi voglio bene